Sì, è un pari settimana che sta trascendo il punto qui davanti, che nella nostra questione è la comportazione di menessere Silvania, entro l'altro è l'accusazione con tutti i studenti in sua direzione per lo che tratta di abuso laboral e appunto qui sta sicuramente di preoccupazione. Però lo che non sta sorprendendo durante le ultime settimane è che il partito MFK sali del caso qui è il Presidente, con l'intenzione di intermediare tra il partito, tra il ministro di Finanza e il personale di LVD. E' quello che non sta a fare qualcosa di preoccupazione, ma è un momento che un partito politico mette dentro di un ministro, è quello che sta sicuramente per noi un conflitto di interesse e sta a dimostrare anche che il partito MFK non ha nessun conoscimento di cosa tratta di politica. Pensei mesi nostre peticioni per il partito politico, nel nome del Presidente del Partito, il signor Van Heidorn, per quitter la sua mano, per il processo interno del ministro di Finanza e la sua mano, per quitter 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 la sua mano, per sientare sicure di cosa che la sua mano, e che si sono tratta di 5 politici, che sono incorporati in questo. Abbiamo chiesto una peticione del ministro del Signor Silvani per la investigazione che si deve realizzare. Il ministro per la distanza del ministro per la tempo di investigazione per dare un spazio per la investigazione per il cammino di corretto. E' per proteggere il Signor Silvani e per dare una sicurezza, trasparenza e clarità per la investigazione per la maniera del Signor Silvani.